Ringrazio il sindaco Orlando perché quello che sta facendo per Palermo secondo me è un'opera meravigliosa perché la dobbiamo soltanto valorizzare, dobbiamo essere tutti noi intelligenti a fare queste cose, portarle avanti e farle crescere, non sparare sempre. Però una cosa ve la voglio chiedere, noi siamo 5.000 dipendenti, oggi purtroppo siamo in pochi perché siamo al lavoro e siamo logati per garantire il servizio alle persone che hanno ADSL, che hanno i contratti di Enel, io vi chiedo, io vi chiedo una cortesia, ministro, e ringraziamo anche il sindaco Orlando perché ci ha ricevuto più volte di prenderci in considerazione, di non abbandonarci, noi vi ringraziamo, ce ne stiamo andando. Una buona giornata. Una buona giornata. La gente ha messo la strada. La gente ha messo la strada.